salve a tutti altri grafici altri spunti per continuare a comertare questi mercati che nelle ultime sedute stanno riportando alcuni valori su livelli che non vedevamo da tempo ad esempio il vix l'indice della volatilità ha rotto ieri 20 punti che rappresentano quella soia che secondo molti analisti è un po lo spartiacque tra un livello di tensione e maggiore di stress di nervosismo è invece un momento un po più pacifico oggi però ripartiamo come al solito dal tlt il prodotto più osservato in questo momento dagli investitori per le potenti relazioni intermarket che poi esso inevitabilmente va ad avere ecco il tlt ieri ha chiuso su un nuovo minimo ricordo che il suo minimo è da quando è stato votato ne abbiamo già parlato e poco sopra gli 81 adesso siamo 82 77 ecco se andiamo a guardare proprio tutta la storia di questo prodotto vedete che nel 2002 era 81 e 28 e siamo praticamente a quelli vicini a quei livelli allo stesso tempo è tempo forse è tempo di andare a disegnare dei canali dei canali che sono utili a volte per appunto osservare i grafici e con più attenzioni dei canali paralleli e ho disegnato questo canale andando a prendere il momento sostanzialmente partendo dal momento in cui il questo questo indice è di fatti peggiorato quindi siamo praticamente da dall'ultima parte di luglio a venire e siamo in un momento importante perché il doppio minimo di cui parlavamo ieri è stato perforato quindi però è chiaro che non si va con la forbice bisogna essere anche un po flessibili però al momento è stato perforato e vedremo appunto se questo sarà un falso breakout ribassista del doppio minimo oppure un effettiva appunto un break vero che apre la strada aprirebbe la strada a nuove discese allo stesso tempo però se disegniamo questo canale vediamo che siamo sui livelli più bassi del canale i canali sono sostanzialmente dei percorsi in cui pur all'interno di un trend che in questo caso è ribassista le asset i prezzi delle classi di investimento vanno a ondeggiare a rimbalzare e quindi in questo caso siamo nella parte bassa quindi chi ipotizza che questo sia un canale importante può anche considerare il fatto che il tlt possa reagire da a questa parte bassa di questo canale andando a disegnare un'altra uno swing lo stesso discorso si può fare e lo stanno osservando anche in tanti su un altro etf legato al mercato obbligazionario che si chiama ief ed è sostanzialmente il tlt ma portato un po più avanti nel tempo nel senso che ha una duration più breve tra i 7 e i dieci anni anche questo ovviamente molto osservato anche questo sta soffrendo perché il decennale si è nuovamente riportato a ridosso di quella soglia spartiacque anch'essa del 5 per cento siamo al 4 95 ma come vedete anche qui siamo nella parte bassa di questo canale che appunto indica il percorso ribassista ma con degli swing dello stesso quindi anche qui siamo in prossimità di una rottura sia del doppio minimo e anche del canale discendente oppure di distensione e di recupero di momento appunto di tensione un po un po finita un po pausa all'interno di questo a questa burrasca che sta riguardando i tassi di interesse tra l'altro ieri sono usciti i dati importanti anche per quanto riguarda l'aggiornamento delle vendite di bond da parte della cina di bond americani e in relazione proprio al discorso che facevamo ieri e che appunto la selling pressure sui titoli di stato americano arriva arriva anche dall'oriente che nemmeno forse dei modi in cui oggi si combattono le guerre le guerre finanziarie tra tra paesi non allineati eccetera eccetera ci si magari gli stati uniti vietano fanno delle limitazioni per quanto riguarda i chip qualche materia prima importante e la cina magari risponde ovviamente queste sono in parte dietrologie ma comunque bisogna analizzare questi fenomeni sempre in modo guardingo e senza cadere nel complottismo però la cina magari aumenta la vendita di tresori per mettere pressione sul deficit e sulla fiscalità degli stati uniti tra l'altro anche powell che ieri è intervenuto il presidente della federal reserve ha detto che sostanzialmente l'attuale trend di del deficit statunitense è insostenibile ha usato proprio questa questo aggettivo anche si ha detto che è un discorso più nel lungo termine nel breve sostanzialmente non si dice molto preoccupato di questo non si è detto molto preoccupato nel breve ma chiaramente nel medio lungo è insostenibile quindi staremo a vedere tornando al tlt e la e al if altro tf che entra nei radar ve lo consiglio perché comunque collegato duration più bassa ma comunque importante siamo su due canali livelli bassi del canale e quindi qui siamo ancora di più da uno spartiacque quindi oltre a osservare il concetto tecnico di doppio minimo e da cui eventualmente ripartire o andare più giù c'è anche il tema del canale che in questo caso offrirebbe uno nuovo supporto tecnico che però qualora ha violato anch'esso insomma aprirebbe la strada veramente una a una tensione una forza dei venditori su livelli già profondamente bassi e quindi una debolezza dei compratori su livelli sugli stessi livelli quindi insomma è una situazione da monitorare che potrebbe però evolvere rapidamente in un senso o nell'altro allo stesso tempo dobbiamo dire che c'è un'altra cosa importante che si può dire anche a proposito di canali oggi è la video dei suoi canali paralleli ecco ls p500 si trova in una situazione simile se non vado a rato l'avevo disegnato ecco simile a livello di canale ma in realtà molto più vedete siamo sulla media sulla media di questo canale non sulla parte bassa quindi qualora ls p500 avesse voglia di andare a ritestare la parte bassa di questo canale andrebbe sotto la media a 200 giorni che in questo momento si trova andiamo a disegnarla si trova sostanzialmente in area ecco si trova qui intorno ai 4230 4250 punti quindi interessante appunto in questa fase particolare visto che si sono sono partiti dei canali proprio da fine luglio sulle principali classe di investimento interessante andare a disegnarli ea tracciare anche appunto questa parte che fa che rientra comunque nell'analisi dei grafici nell'analisi tecnica un altro spunto interessante che si può dare e che dalla settimana prossima quindi dal 23 ottobre le aziende delle si molte aziende delle semplici 500 ovviamente non quelle che presenteranno proprio la prossima settimana i dati delle trimestrali ma molte aziende che li hanno già presentati eccetera eccetera potranno tornare a a fare buy back cioè a comprare i propri titoli e quindi a sostenere il book lato domanda delle loro azioni questo è un modo artificiale con cui si va un po soprattutto wall street a sostenere i prezzi è una scelta aziendale di destinare una parte della liquidità piuttosto che verso altre operazioni verso l'acquisto di azioni proprie e anche qui ci si chiede con questi tassi americani a breve termine al 5 e mezzo il buy back conviene oppure conviene anche lì depositare questa liquidità in questo bancomat mondiale che si sta rivelando si stanno rivelando gli stati uniti nella parte breve della curva con tassi superiore al 5 per cento che se non si vedevano da oltre vent'anni è vero anche che però i buy back che potrebbero aiutare a respirare un po le azioni e quindi è comunque da monitorare perché per ora ne avevamo già parlato siamo in black out period cioè i buy back che le aziende che hanno comunicato buy back hanno dovuto sospendere l'operatività non possono non hanno potuto comprare azioni e non potranno neanche oggi ma dalla prossima settimana molte potranno riprendere a farlo e quindi è interessante ricordo che la settimana prossima tra l'altro ci saranno anche i conti di google alfabet che è una delle aziende che appunto ha lanciato uno dei piani di buy back insieme a apple insieme a meta più importanti e che ovviamente per quanto riguarda google questa questa manovra non potrà riprendere la prossima settimana proprio perché ci saranno i conti comunque il tema dei buy back che riprendono e riprenderanno fino all'otto dicembre è un altro tema importante ed è un altro trigger che statisticamente salvo elementi eccezionali come la crisi geopolitica un credit event eccetera eccetera che non si possono escludere in questo momento dal punto di vista scolastico salvo questi elementi un po più da cigno grigio barra cigno nero è un elemento che favorisce statisticamente il canonico orelli di natale ne abbiamo parlato dei due dei due elementi uno la stagione delle trimestrali i mesi delle trimestrali statisticamente sono positivi per i mercati perché gli utili tendono a battere le stime degli analisti allo stesso tempo c'è il tema della stagionalità di fine anno legata alle provisioni da parte dei dell'industria di risparmio gestito che tende a fare un po di abbellimento contabile window dressing laddove possibile e quindi questo è un altro driver pro rally di natale e l'altro è proprio il buyback perché nell'ultima parte di land dell'anno si concentra circa il 20 per cento dei buyback stanziati per l'anno in corso quindi è un altro elemento ma ovviamente tutto va contestualizzato perché siamo in una fase in cui o si va più in volatilità o si va più in tensione oppure la cosa può rientrare e a quel punto i driver naturali stagionali possono certamente aiutare il mercato è una fase comunque molto nervosa lo dimostra il fatto che il vix sia obiettivamente oltre i 20 punti ma un giorno oltre i 20 punti due giorni oltre 20 punti non significano granché bisogna che questa chiaramente per i ribassisti è necessario che questa volatilità rimanga piuttosto elevata per per qualche giorno dando segnali appunto di di tensione sul piatto conclamata quindi è una situazione un po particolare ma volevo darvi oggi questo spunto sia relativo ai canali sia relativo alla al tema dei buyback e chiudo dicendovi che siamo in in gamma negativo in questo momento molti di voi strabuzzeranno gli occhi diranno ma cos'è questo gamma negativo ok normale è una situazione in cui sostanzialmente dal mercato delle opzioni che di cui vi parlo spesso di cui vi parlerò anche magari in questo weekend nella seconda puntata del video dedicato ai rendimenti in fasi come avere più rendimenti con le opzioni in una fase in cui già i rendimenti delle obbligazioni sono comunque elevati ecco nel mercato delle opzioni c'è questa questa greca che si chiama gamma e che sostanzialmente in parole povere può essere positiva o negativa come come regime quando si è in regime di gamma negativo sostanzialmente i market maker che sono la controparte principale del mercato delle opzioni cioè se io acquisto una opzione col da un'altra parte c'è qualcuno che me la vende può essere uno di voi un altro investitore ma se non è lui è un market maker che da liquidità garantisce liquidità al mercato il market maker ha l'obiettivo di essere neutrale nel momento in cui va a venderci la col lui assume in quel momento una posizione ribassista sul mercato in quanto venditore di col ma non vuole essere ribassista perché il suo obiettivo è guadagnare sulle commissioni e allo stesso tempo dare liquidità al mercato ma è quindi in quel momento il che è ribassista deve andare a compiere delle operazioni per coprirsi e per riportare la sua neutralità mercato si dice tecnicamente è tornare a delta neutrale ecco da questo punto di vista possiamo dire che quando il mercato è in una situazione di gamma negativo i movimenti vengono amplificati tanto al rialzo tanto al ribasso perché il market maker deve andare sostanzialmente per coprirsi a comprare più sottostante quando questo scende diversa la situazione di gamma positivo ma non voglio complicarvi troppo le cose ma basti pensare che in questo momento ci sono sia elementi che richiamano un po all'ordine richiamano al main reverting cioè al tornare alla media tornare un po la tranquillità perché ci sono degli indicatori che hanno raggiunto degli estremi importanti come il vix oltre 20 punti come i titoli di stato americani sia nella parte a 7 10 che nella parte oltre vent'anni che hanno raggiunto la parte più bassa del canale discendente che si può disegnare da fine luglio e poi c'è il quindi questo è un e poi c'è il tema dei buyback che riprendono la settimana prossima e che potrebbero sostenere il mercato quindi se analizziamo questi aspetti diciamo chi ipotizza un man reverting un incendio che vada un po a spegnersi acqua sul fuoco e quindi maggiore distensione ci sarebbero degli elementi tecnici e anche legati appunto all'industria a questa fine del blackout period dei buyback allo stesso tempo siamo su livelli piuttosto critici e il tema del gamma negativo può amplificare qualora il mercato dovesse prendere una direzione ancora più ribassista perché appunto c'è questa tecnica di tà che arriva dal mercato delle opzioni e che ci fa capire che gli operatori andranno ad amplificare nel bene e nel male i prossimi movimenti fino a che non si tornerà in gamma positivo quindi fatemi sapere voi da che parte estate dalla prossima settimana tornerà un po di sereno sui mercati finanziari finirà la burrasca tra l'altro siamo in una fase in cui proprio lo scorso anno se non vado errato il 22 ottobre andiamo a vederlo ci fu il bottom del mercato azionario andiamo a vedere in questo caso l'indice s&p 500 qui siamo sul future ecco vedete il il bottom del mercato azionario fu il fu il 13 ottobre il 13 ottobre quindi abbiamo superato quella data però alcuni indici se non vado errato da toccare un un po più in là però anche metà ottobre dello scorso anno fu la data in cui poi il mercato andrò andò a girare verso l'alto toccando il botto sarà anche così anche quest'anno questo questo fine settimana burrascoso con il vix oltre 20 titoli di stato americani venduti dai cinesi e non solo con forte selling pressure si sono riportati su livelli estremi eccetera eccetera siamo sarà anche questa settimana l'ultima del ribasso per poi iniziare un percorso di ricostruzione da parte degli indici oppure no fatemi sapere anche voi cosa ne pensate ovviamente poi deciderà come al solito mr market e noi siamo qui umilmente ad analizzare i grafici che volgono al passato ea corroborarli magari con qualche scenario macroeconomico per avere magari qualche probabilità in più di poter leggere di poter ipotizzare i futuri movimenti del mercato ma con umiltà siamo tutti qui a sbagliare però a commentare insieme quello che può succedere che nessuno lo saprà davvero alla prossima